Con l'inizio della fase 2 che prevede un graduale allentamento delle misure di sicurezza, da oggi è consentito l'accesso ai cimiteri di Fano ma con l'obbligo di indossare la mascherina e mantenendola a distanza di almeno un metro. Per curare le tombe dei defunti è necessario usare i guanti e lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l'utilizzo. Inoltre il Comune sta programmando interventi di pulizia straordinaria e la sanificazione di locali e padiglioni. È stato prorogato poi l'accesso agli orti per anziani, sempre con l'obbligo dei dispositivi di protezione e rispettando la turnazione e gli orari previsti. Ripartono anche le celebrazioni dell'eseque. Il Vescovo Armando Trasarti ha elencato le regole da rispettare. I funerali si potranno svolgere all'interno o di fronte alla chiesa e al cimitero ma soltanto in presenza dei familiari più stretti, al massimo 15 persone. Ma il rito, la brevità è sempre determinata dalla dignità del rito. Certo l'ascolto della parola, l'omelia, la preghiera, il gesto finale saranno tutti comunque commisurati all'importanza del momento. Non dimentichiamoci che stiamo incontrando la morte e la sofferenza. Durante il rito verrà omessa l'incensazione della salma, sarà vietato il contatto fisico nello scambio della pace e cambierà il modo per distribuire la comunione eucaristica. Le persone dovranno stare al loro posto, non dovranno muoversi. Sarà il sacerdote che dopo essersi deterso le mani, aver infilato i guanti e messa la mascherina, porterà lui, l'eucaristia, alle persone che poi la prenderanno esclusivamente sulla mano e la porteranno alla bocca, evitando tutti i contatti. Sarà necessario misurare la temperatura corporea? Ecco, questo grazie al cielo, proprio in un intervento che ieri è stato fatto dal segretario della CEI nell'interlocuzione con lo Stato, è stata omessa. Quindi i sacerdoti, le parrocchie non dovranno misurare con il termoscanner la temperatura, però dovremmo invitare i fedeli che hanno 37,5 di febbre, di rimanere a casa perché metteranno a rischio la loro vita e quella delle altre persone. Al termine della celebrazione i fedeli non dovranno assembrarsi attorno alla salma, né accompagnare il trasporto del feretro, dovranno uscire mantenendo la distanza interpersonale. Come avete vissuto questo periodo voi sacerdoti? Ecco, questa domanda mi sembra molto importante perché abbiamo dato notizie tecniche fino adesso, però non dimentichiamo che stiamo affrontando la morte, che è forse la grande sconosciuta che in questo tempo di coronavirus abbiamo capito che fa parte della vita, la morte, la sofferenza, il dolore. Quindi noi preti in questi due mesi abbiamo sempre accompagnato le persone con la preghiera. Io l'ho fatto nella mia parrocchia, ma tutti i preti lo hanno fatto. Il rito ci aiuta a dare voce alla sofferenza, alle lacrime. Io mi sono trovato tante volte a sentirmi padre, madre, figlio, figlia, sposo, sposa, nipote della persona che è morta. Quindi abbiamo vissuto con grande intensità. Il nostro Vescovo ha anche scritto una lettera che abbiamo consegnato ai familiari, però dobbiamo dire che la morte fa parte della vita e dobbiamo affrontarla se desideriamo poi vivere e non vivacchiare. Ecco, questo quindi è un grande messaggio di speranza che mi auguro anche attraverso il rito doniamo a tutti. Ecco, mi auguro che questo cammino possa veramente farci rialzare e risorgere, direi.